A medio termine aumentare la produzione di gas, smetterla di litigare con la Russia perché abbiamo bisogno di gas, aumentare l'estrazione, raddoppiare il gas che arriva dalla TAP e in prospettiva, come fanno tutti gli altri paesi al mondo, tornare a fare ricerca sul nucleare pulito, sicuro, di ultima generazione. La Francia ci vende energia elettrica grazie ai suoi 56 reattori nucleari. Quindi occorre che il governo intervenga adesso, perché per famiglie e soprattutto imprese la bolletta di luce gas sarà insostenibile e occorre che il governo, chiunque ci sia a Palazzo Chigi, io penso Draghi, adesso e nei prossimi mesi, aiuti le imprese italiane a competer perché oggi stiamo pagando molto di più di Francia e Germania per produrre e non possiamo andare avanti a lungo così. Ringrazio l'UGL, unico fra i sindacati che fino ad oggi ha avuto la sensibilità perché sarà un'emergenza anche per i lavoratori, oltre che per le imprese e le famiglie.